Siamo qui per contestare il progetto del centro di stoccaggio della CO2 a Ravenna, promosso da Eni e benedetto dal governo Conte e da Bonaccini. Questa è una politica che noi riteniamo molto sbagliata, riteniamo che questo significhi perseguire la politica del fossile, perché vorrebbero non solo nascondere la CO2 sotto il tappeto, ma utilizzarla anche per produrre idrogeno blu, che sappiamo non essere affatto un'energia pulita, ma è un'energia che utilizza proprio i giacimenti e il metano per produrre energia. Crediamo che questo sia un gigantesco favore a Eni, che quindi non pagherebbe la dismissione dei propri giacimenti e che otterrebbe poi miliardi di euro del Fondo Innovazione Europeo e del cosiddetto Recovery Fund. Quel progetto lì, il CCS, è un progetto sbagliato al quale ci opporremo e appunto il messaggio che diciamo va sotto stamattina è che questo è solo l'inizio. Noi nelle osservazioni che abbiamo presentato alla regione abbiamo anche detto che bisogna che sia escluso questo progetto. Non ci accontentiamo del fatto che non se ne parli. Qua c'è un progetto che rischia di essere la cifra decisiva del Recovery Fund in questa regione e della strategia rispetto alle emissioni climi alteranti zero. Noi diciamo che bisogna abbattere la CO2, non stoccarla e immagasinarla. L'Emilia Romagna rischia di essere il caso zero poi per estendere questo tipo di progetti al resto d'Italia e quindi è un precedente pericoloso. Questo impianto per noi è un progetto inutile se non addirittura dannoso, cioè è inutile nel senso che non ci sono studi che provino l'effettivo funzionamento di questo progetto e sarà uno spreco di soldi del Recovery Fund che sarebbero soldi destinati alla riconversione ad energie rinnovabili e quindi finanziare un progetto che di rinnovabile non ha nulla. È anche un rischio per il territorio dato che ci sono degli studi che dicono che può portare rischi di vario genere per proprio il territorio di Ravenna. Noi esprimiamo forte preoccupazione su quest'ipotesi, su questo progetto. Sicuramente noi dobbiamo ridiscutere le politiche energetiche in modo complessivo e quindi anche questa, di scontato non c'è nulla per quanto ci riguarda. Una complicata soluzione tecnologica che ha dei costi economici altissimi e non risolve il problema. Per catturare la CO2 dell'atmosfera ci vogliono le piante, ci vogliono gli alberi. Questi sono i catturatori naturali della CO2 in atmosfera. Quest'impianto dell'Eni invece è una furbata per continuare in realtà a estrarre metano e usarlo. Sicuramente io non voterò mai a favore di questo impianto, questo è poco ma è sicuro.